Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per un nuovo video perché è uscito il nuovo gioco di Halo, ebbene porterò tutta la campagna in 4k a 60 fps tutta sul canale, non farò tagli per farvi godere al massimo l'emozione di questo nuovo capitolo e l'incredibile grafica, ma prima di iniziare vi chiederei che iscrivetevi al canale stiamo arrivando quasi a 1500 iscritti, vi ringrazio tantissimo del supporto in settimana uscirà anche il video nuovo dei Galacticos e nuove tattiche per FIFA 22 ma iniziamo subito, ripeto, 4k a 60 fps, cercherò di non fare tagli anche se dovessero uscire video abbastanza lunghi però, allora direi di iniziare subito la nostra campagna e da quello che ho capito sarà un gioco pazzesco graficamente e anche a livello di storia, ho già detto le prime recensioni, ma ora silenzio non cedimi un istante graficamente ragazzi fa paura graficamente 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 il comparto audio spero si senta molto bene perché con queste cuffie poi io ci lasciano cadere quindi nel vuoto più totale ok ragazzi graficamente veramente non male per per quello che sto vedendo adesso ragazzi molto 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 bello veramente mi riduca un po ancora l'icona graficamente 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 da più voglio mettermi la webcam sempre più piccola graficamente graficamente la se mi senti là dentro spero tu sia pronto ti prego non morire per favore non morire ok ok abbiamo preso possesso qui del nostro personaggio ok stiamo calibrando la visuale ok 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 ragazzi direi che ne è valsa la pena per quello che sto vedendo c'è qualcosa che devi vederci abbiamo perso perso tutto per noi non c'è più niente qui non so nemmeno dove sia ecco ecco finalmente si passa l'azione questo volevo vedere che finalmente passiamo all'azione ragazzi nuova missione nave da guerra ok 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 intanto i proiettili ce li stiamo prendendo a livello dei dettagli è la cosa il livello dei dettagli è la cosa che mi sta veramente più impressionando sinceramente perché soprattutto gli effetti di luce eccoci allora la scansione mostra ok classica e scivolata ok corpo a corpo scivolata non ricordo me la scivolata ma dovrebbe essere sempre esatto come tornerà indietro mi inventerò qualcosa trasporto nemico bloccato dal raggio di stati scansioni iniziali inconcludenti schierare la squadra nell'hangar 1 eliminare tutti i sopravvissuti ok il rampino ok il classico rb eliminare? chef qualsiasi cosa tu voglia fare falla in fretta ok questo implemento ci sta anche bene spero si veda bello nitido come lo sto vedendo io con queste cuffie 3d ragazzi non avete capito? e si sente veramente tutto no 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 se vuole munizioni munizioni pistola al plasma non mi fa impazzire però possiamo continuare allora ripeto a livello grafico no 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 niente da dire ok 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 ecco ecco Sapevo che sarebbero arrivati i problemi Ovviamente Vabbè Il nostro amico sembra abbastanza arrabbiato Abbastanza arrabbiato dire Vabbè calma Cioè insomma adesso la capiamo No 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 Sì ma Allora Ok Ok Ho sbagliato qualcosa Quindi così lo evito e me ne vado No ma No 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 Cioè non so se scappare Non so Ma Aspetta io non ho capito Mi sono fatto battere due volte da sta roba Se avessi avuto il mio fucile Allora cosa abbiamo qua Ok Io direi finché fa di usare la pistola al plasma Perché è molto più facile Molto più semplice L'altra lo userei proprio Ok Ok Mamma mia Andiamo avanti Sì magari ci carichiamo un po' le armi Ok Ok Preferisco termine la pistola al plasma sinceramente Carabini impulsi Ok Non c'è nessuno Non c'è nessuno No no Ok Non c'è nessuno Continuate rockforte 45 Risque E' I'opera Ok 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 Iniziare i preparati i finali Ok Mi serve Mi servono munizioni Molte munizioni Ok Riclicchiamo le almi Andiamo avanti Perché ho il presentimento che debba utilizzare il fucile d'assalto C'è ancora speranza C'è ancora il fucile d'assalto C'è ancora il fucile d'assalto Ok Abbiamo preso tutto mi sa No Ma è da Ho troppo rinculo quest'arma però Un po' chiare le indicazioni su questa Su questa mission Ok allora Dovrei Dovrei Continuare Facciamo Ah mi sa che mi fermo qui raga Anche se Eccola la porta Allora Allora Vediamo un po' come si evolve Se non mi fermo qua No Ok 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 Allora Allora si pusha 3 2 1 Via Dammi ricarica Dammi ricarica qualcosa Ma mi servono munizioni Che cos'è questa roba Che cos'è questa roba Che cos'è questa roba Buono Ritengo questa Adesso vede Cazzo Ebbè Queste pistole al plasma Mi stanno Dando sui nervi Parecchio sui nervi Eh Devo prenderla Devo prenderla Anche se Aspetta Raccogli munizioni Munizioni cinetiche Ok Ok Ho perso l'arma Vabbè Ok Di nuovo T'ho visto Che culo Cazzo E' matto Mi servono muni Un secondo che cercò Ok Ok Eh One shot Non va fino a qua Da media distanza Si Quanti HS mi devono entrare No calma No calma Ok 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 Ripristinati Compostando Ok 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 7% ricaricami no 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 danni critici mi deve colpire ora 7% ok possiamo proseguire arriviamo a 30 minuti e chiudiamo il momento si avvicina presto gli esiliati avranno la vittoria nelle loro vanno Rathiox ascolta queste parole anche da molti là oltre a questa vita la tua volontà si è compiuta ora le tre forze occupano ganello però non molto lo avemo sotto il nostro controllo l'umanità si metterà il ginocchio davanti alla tua eredità bruceranno tutti quanti e la nuova dente sarà solo un dente corto la vittoria è nell'aria quindi devo far fuori tutti questi ok ci posso stare allora ragazzi facciamo una cosa ci stoppiamo un secondo ci stoppiamo un secondo domani ogni due giorni pubblicherò le nuove parti degli episodi questo è l'episodio 1 spero vi sia piaciuto che la qualità sia molto buona noi ci vediamo per la seconda parte ciao a tutti bella ciao a tutti ciao a tutti